Sono qui! Siamo così felici di vederti! Abbiamo risolto tutti i problemi tecnici! Ora l'importante sono i capi! Com'è andato il rammendo? Beh, c'è un problema! Ma scherzi! Non so come spiegarvi, è successo di tutto! Il carrello è rotolato via, poi c'era la vernice e quelle scale! E credo che River mi abbia baciato, ma forse era solo un'allucinazione! Non ho potuto lavorare sugli abiti! Cosa? Lo so, lo so! Ma ho preso il necessario della nostra stanza e credo che possiamo farcela! Non preoccupatevi! Aspetta, River ti abbaccia! No, aspetta, non preoccupatevi! Dobbiamo salire sul palco da un momento all'altro! Se non ce la facciamo, ci espelleranno! Jade, non sclerare, altrimenti lo farò anch'io! Siamo in iguai! Io so, facciamo in iguai! Non mi vuole succedere questo video! Non mi mette panico! La professoressa Morton una volta ci ha detto un capo è forte quanto la sua cucitura più debole! Già, ma non ho mai capito cosa intendesse! Neanch'io, ma ora l'ho capito! Nessuna di noi ha una cucitura debole, quindi dovremmo restare unite! Ci serve solo un po' di buona fornata! Non dirlo! Voglio dire... Restiamo unite e presentiamo un'ottima sfilata! Ci sto! Come diceva Bella, mai arrendersi, giusto? Colonia tutta volume! L'ho fatto di proposito! Ho un problema! Non so come rammentarlo! Ci penso io! Ma è pazzesco! Non ho mai visto niente di simile! Il gruppo è davvero fortunato ad averti, Amaya! Dico sul serio! Credimi! Grazie! Due minuti al sipario! Avanti a tutta moda! Ciao!